Benvenuti in Crocket and Jones. Crocket and Jones si distingue per la sua approfondita comprensione dell'artigianato orologero. Ogni orologio è realizzato con una precisione straordinaria, rappresentando il massimo della maestria artigianale inglese. Crocket and Jones utilizza solo i materiali più pregiati per garantire l'esclusività e la durata nel tempo dei suoi orologi. I quadranti possono essere arricchiti da dettagli raffinati, indici luminosi o lancette sagomate con precisione. La cura per il design è evidente anche nel cinturino, che può essere realizzato in pelle di alligatore, coccodrillo o altri materiali pregiati. Crocket and Jones, dove l'arte e il tempo si fondono per creare orologi straordinari. La tua ricerca di un orologio che incarna l'eleganza senza tempo e l'eccellenza artigianale trova la sua risposta in ogni creazione firmata Crocket and Jones. Crocket and Jones Crocket and Jones